Vi aspettiamo numerosi in sala, perché il film è bello, fa ridere e molti muoiono anche in sala, quindi anche per il suicidio questo film. E poi volevo dire, a proposito del film, cantare questa canzone dura un'ora e venticinque, però la faccio. Se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno... L'ho fatta, questo l'ho fatto un po' veloce, poi volevo cantare... I live no... C'è l'audio in ritardo, non ho capito... No! Vedi? Ha! 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 Niente, perché succede questo microfono? Dato. No, va bene, l'ultima cosa... L'ultima cosa che voglio dire del film è che... E' divertente. Ci siamo divertiti tantissimo, naturalmente piegata. Niente, un casino, non ve lo riesco a dire, andatelo a vedere, le frise ignoranti in sala dal 23 aprile, mi raccomando, no, perché io vi cerco, se non ci siete in sala con uno un gran musta e chi uno un nuovo musta, faccio a birra io, faccio a birra.